Musica Cari amici bentornati in nostra compagnia. Il viaggio in Molise di oggi ci porta a Bagnoli del Trigno in occasione dell'arrivo della statua pellegrina della Madonna di Fatima in paese. Cento anni dall'apparizione della Vergine, da quel 1117 quando apparve ai tre pastorelli di Cova di Iris, in Portogallo, e poi una grande fede tutta bagnolese, proprio verso la Madonna. E allora, cari amici veggie Molise di Tele Molise, rimanete con noi per scoprire più da vicino fede e suggestione e preghiera. Monsignor Domenico Scotti, Vescovo di Trivento, a Bagnoli del Trigno, la statua pellegrina della Madonna di Fatima, un evento importante per tutta la comunità e per tutta la diocesi. Sì, è un momento molto significativo la venuta della Madonna di Fatima perché quest'anno ricorrono i cento anni dell'apparizione di Maria Fatima ai tre pastorelli. Anche perché qui in loco a Bagnoli del Trigno c'è proprio un santuario dedicato alla Madonna di Iria che apparve nel 1917 ai tre pastorelli. Questo santuario è stato voluto da un sacerdote che ha dedicato tutta la sua vita per realizzarlo. Lui è stato molto impressionato da tutta la storia di Fatima e ha voluto realizzare qui una chiesa da dedicare alla Madonna. La Madonna di Fatima si presentò ai tre pastorelli come la regina del rosario e propagò la devozione al cuore immacolato di Maria. Che vuol dire? Maria è la madre nostra, ci è stata data da Gesù ai piedi della croce e la madre ha sempre amore per i propri figli. E Maria esprime questo amore verso di noi presentando proprio il suo cuore, un cuore che ama, un cuore che si preoccupa per il bene dei suoi figli. Francesco e Giacinta scomparvero prima di Suor Lucia che è andata via nel 2005. Lei è un grande esempio. La ricordiamo a fianco di Giovanni Paolo II, Papa Giovanni. Qual è stato il suo messaggio? Il messaggio da parte di Lucia è stato sempre il messaggio di Fatima che lei lungo i suoi anni ha sempre ricordato e anche illustrato in tutta la sua pienezza. Mentre invece Francesco e Giacinta sono morti bambini con la malattia che c'era nel tempo e sono stati già beatificati perché ci sono stati dei miracoli ma anche per questo rapporto molto bello che loro hanno avuto con Maria Santissima. Lei da pastore della diocesi di Trivento, quale augurio fa a tutta questa comunità che oggi accoglie e vive un momento così importante? L'augurio è di sapere aprire il cuore ad accogliere il messaggio di Fatima, ritornare alla preghiera e anche saper mettere un atteggiamento penitenziale nella vita. Purtroppo questi due aspetti sono stati messi da parte nell'ambito della nostra società perché si pensa solo a quello che piace e non a quello che è il bene per la propria vita. E allora l'augurio è proprio questo, non solo per questa comunità ma anche per tutta quanta la Chiesa, di ritrovare un cammino di preghiera e anche un cammino penitenziale per mettere in atto quello che Maria desidera per il bene di ognuno di noi. La Chiesa La Chiesa Allora quest'anno stiamo vivendo un momento particolare perché stiamo celebrando in comunione con il santuario il centenario delle apparizioni di Fatima. Per questo itinerario nazionale iniziato il 22 di aprile che si concluderà l'8 dicembre di quest'anno è accompagnato dall'indulgenza plenaria che il Santo Padre ha concesso in tutte le comunità parrocchiali dove permane l'immagine pellegrina. I feteli possono lucrarsi di questo dono dell'indulgenza plenaria. E' questo dono, il pellegrinaggio abbiamo detto che si concluderà l'8 dicembre però la penitenziaria apostolica ce l'ha concesso fino al 31 dicembre in comunione con il santuario di Fatima. Di solito nella vostra opera pellegrina come si strutturano i vari pellegrinaggi? Beh, essenzialmente con le richieste da parte dei sacerdoti vitimate dal loro ordinario. Una volta pervenuta questa richiesta noi si programma tutta la peregrinazio nazionale trasmettendo il tutto a Fatima in modo di avere il consenso e l'immagine che ci viene mandata appositamente per questo peregrinazio. Quindi diciamo che è molto impegnativo perché noi quest'anno, come ha già detto lui, dal 22 aprile all'8 dicembre siamo al giro di Boa quasi e abbiamo già percorso circa 25 mila chilometri e ne rimangono altrettanti. Adesso c'è la Sicilia, c'è il Veneto e quindi è molto molto impegnativo. Voi che capillarmente seguite appunto la statua pellegrina, che idea potete dare della fede della Madonna di Fatima in Italia? Noi scontriamo, ecco, momenti belli che dimostrano i fedeli, ma ci sono anche dei momenti particolari dove notiamo che, specialmente gli uomini, che entrano in chiesa dopo un'assenza di circa 30 anni. E questo è il motivo di gioia, vedere gente che non è in chiesa da 30 anni, vanno davanti alla Madonna, si confessano e partecipano alla Santa Messa e alla comunione. Quindi si potrebbe dire una grande opera di conversione. Cosa colpisce di più della Madonna di Fatima? Colpisce che c'è molta preghiera, tanta preghiera. Vedo che le persone, la maggior parte dei fedeli, rimangono senza parole davanti all'immagine, perché è la stessa cosa che poi tra l'altro si verifica a Fatima. Noi sono circa 30 anni che tutti gli anni dobbiamo andare a Fatima sempre per coordinare con loro. Ogni volta che andiamo alla cappellina per noi è sempre la stessa emozione, la stessa cosa. Non può essere altrimenti. È una questione di fede, è una cosa che viene da dentro e è impossibile. È bello da provare, da venire a vedere. Evviva Maria! Evviva Maria! Evviva Maria! Grazie a tutti.